buongiorno a tutti ciao buona domenica oggi è domenica pomeriggio una bellissima giornata ma molto molto fredda qui a lecco alcune cosine da fare quindi ho pensato di farvi un video chi mi segue sui social ha visto ragazzi mi vergogno che sono andata al dm market a fare provviste ma voglio fare una piccola anticipazione io so che tanti di voi conoscono il dm io non lo conoscevo non lo conoscevo e vi racconto un aneddoto che è veramente ridicolo e divertente allora c'è la mia amica simona che ha il blog pensieri e pasticci con il quale ho un legame di amicizia molto profondo da molti molti anni prima solo virtuale poi anche di persone insomma siamo diventate amiche oltre il blog di cucina lei mi continuava a dire ah ma sai sono andata al dm ho trovato questo prodotto questo prodotto questo prodotto buonissimi e devi provarli e io come una cretina confondevo il dm con l'md ok ragazzi ci siamo capiti andavo all'md della mia città che è comunque un punto di vendita abbastanza piccolino e non trovavo quello che lei diceva non riuscivo a capire di cosa stesse parlando alla fine ho capito che era un altro negozio un'altra catena al che mi sono informata su youtube mi sono iscritta al canale facebook di questo market tedesco che ha molti adesso molti punti vendita comunque si sta sviluppando sempre di più molti punti vendita in tutta italia soprattutto al nord magari al centro e al sud pochi o quasi nulla alecco non c'è ne ho uno vicino a curno e a como per mia comodità è più comodo lineare andare a curno che andare a como perché la strada per andare a como dall'eco a como è assurda c'è un traffico pazzesco e allora vabbè ho deciso di andare a fare questo tour ispettivo a curno e ho coinvolto la mia collega lella e amica che ha subito accettato molto tranquillamente questo invito e la mia amica franci è stata un'esperienza devastante per la mia carta di credito per il mio portafoglio ma inebriante entusiasmante ero sopraffatta da tutti questi articoli cioè io non avevo idea che ci fossero così tante tipologie di articoli in questo negozio e anche ieri poi quando sono ritornata dopo essermi frustata per poco tempo per aver comprato l'impossibile ma credetemi veramente l'impossibile ho detto ma perché non fare così un video divertente visto anche il momento un po così per rilassarci insieme chi vuole chi lo vuole vedere lo vuole vedere chi non lo vuole vedere va benissimo che non lo veda alcune persone si sono anche disiscritte al canale mi sono accorta visto che non parto parlo più di maglia o di cosmesi naturale ma parlo di cosmesi commerciale pazienza io ve lo dico a 52 anni non devo rendere conto a nessuno nel senso che non faccio male a nessuno mi sto divertendo in questo momento particolare della mia vita ho bisogno di queste cose penso di non danneggiare nessuno se non il mio portafoglio e la mia carta di credito e quindi faccio quello che mi piace faccio quello che mi serve che mi fa star bene che mi fa uscire un po da da quelle che sono le preoccupazioni giornaliere niente di che è per l'amor di dio però questo è il mio cellulare aspettate che lo spengo e quindi nulla chi vuole provare vuole continuare a seguirmi mi segue io sono contentissima chi non se la sente perché gli argomenti che tratto non sono più nelle sue corde ognuno è libero di di scegliere per fortuna noi che possiamo ci sono persone che non possono scegliere ricordiamocelo e nulla quindi per farla breve perché ho un casino di robe da farvi vedere ma c'è io sono rimasta sconvolta allora tanti tantissimi di voi probabilmente conosceranno questa catena dm o dm ma tanti di voi so che non la conoscono e non sapevano di questo paradiso terrestre della cosmesi della igiene del personale insomma ma anche dei detersivi e insomma tutta questa cosa qua allora qui non vi parlerò né di inci né di prodotti bio vegan se c'è scritto sulla confezione ve lo dico nel senso vi mostro quello che io ho provato e ho comprato no provato no scusatemi che ho comprato in base a tutte le recensioni che ho visto su youtube da tante amiche che sono molto più esperte di me molto più brave di me e che vi linkerò nell'info box così almeno anche voi le conoscerete e i loro video sono sempre molto interessanti e servono anche per capire bene quello che magari ci piacerebbe comprare piuttosto che 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 no su tante recensioni carine dai prodotti cosmetici e prodotti per il corpo io vi faccio vedere quello che ho comprato alcune alcune tipologie se le già fregate la lucy perché è venuta con me ed è stato amore a prima vista c'è due giorni che si spalma di crema che oggi voleva rifare un'altra volta la doccia perché l'aveva fatta dire gli ho detto no luci adesso va bene che sei una persona pulita però conteniamoci nel senso che va bene usare tutti i prodotti però vai fuori un botto di acqua quindi no anche no la crema corpo te la puoi mettere ma per il resto cerchiamo di contenersi quindi alcune cose le ha le ha già prese la lucy perché erano sue e alcune cose ve le mostro e se per caso voi avete provato testato mi piacerebbe sapere la vostra opinione mi piacerebbe sapere se vi sono piaciuti o se non vi sono piaciuti e perché non vi sono piaciuti io vi dico quello che ho comprato in base innanzitutto e lo sapete è come i libri cioè io i libri li scelgo per la copertina i prodotti li scelgo per il pack e questi prodotti hanno dei pack veramente interessanti secondo me chi è responsabile della grafica di queste cose la sa lunga perché generalmente la maggior parte delle persone compra il prodotto per il pack e poi magari non gli piace secondo me qui l'hanno studiata molto bene sono veramente molto belli accattivanti colorati i profumi sono inebrianti sapete che a me piacciono i cosmetici detergenti comunque con un profumo magari non troppo forte non troppo invadente ma che si senta cioè se mi lavo le mani con un sapone che sa di limone mi piacerebbe sentire un pochino il profumo di limone che sia olio essenziale che sia fragranza cosmetica quello che è comunque questo è e devo dire che il loro spettacolare cioè ragazzi spettacolare io sono cioè sono arrivata a 52 anni a non conoscere che cos'è un dm ma voi ve ne rendete conto una cosa pazzesca va bene adesso la finiamo qua perché se no diventa troppo lunga e già sarà lunghissima perché questa è solo la prima puntata perché poi questa è solo la prima puntata per i prodotti corpo rasature queste cose poi c'è la puntata viso mani e piedi tanto viso poco mani poco piedi ma tanto viso tanto ma sarà la prossima puntata allora prima tipologia di acquisto i saponi mani allora questo è sapore mani cremoso al profumo di more e vaniglia allora alcuni li posso aprire perché hanno comunque un pao che adesso in inglese non lo so dire ma è praticamente la scadenza dal momento che voi aprite la confezione allora io ho quattro mani in casa ne utilizzo tre tutti i giorni quello della taverna un po meno quindi questi tre sono già nei nei tre bagni e quindi vabbè si consumano insomma le mani le si lava poi tra l'altro uno l'ho messo in cucina perché ha un profumo di limone e zenzero che è spettacolare secondo me toglie gli odori che ne so del pesce piuttosto che dell'aglio piuttosto che della cipolla perché io non uso guanti in cucina né per le pulizie né per fare altro cioè io non sono capaci di usare i guanti da cucina comunque bando alle ciance andiamo avanti questo vi ho detto ma balea sapone mani cremoso al profumo di more e vaniglia quindi questo lo posso aprire no ragazzi avete in mente quando voi fate in estate magari una macedonia di more frutti rossi cioè no questo è è spaziale mamma mia che bontà è spaziale spaziale buonissimo e quindi ho preso uno di questi che sono 500 ml quindi diciamo una quantità molto buona qui dice dermatologicamente testato prodotto in belgio e nulla di più insomma il 98 per cento se riesco a capire dal tedesco perché non so l'inglese figuriamoci il tedesco però mi sembra di capire che il 98 per cento del materiale che è stato utilizzato è reciclabile mi sembra e non vorrei dire una cagata pazzesca comunque questo è uno poi adesso devo capire anche dove metterli questo è quello che ho in cucina ed è buonissimo l'ho già provato ieri non secca le mani lascia un profumo molto delicato di limone zenzero buonissimo mamma mia questo secondo me se non l'avete ancora comprato è perfetto per la cucina perché secondo me toglie proprio gli gli odori e qua infatti vi dicevo che mi lascia le mani morbissime perché ieri l'ho provato e dice con delicata formula idratante e profumo fruttato e in effetti non secca le mani l'altro non l'ho ancora provato quindi questo è il secondo e il terzo che avevo visto recensito da una ragazza che però siccome la mia tarda età non ricordo il nome giulia forse comunque poi vi metto sotto le ragazze che mi hanno aiutato nello scegliere i prodotti perché loro li consumano spesso e li recensiscono e questo secondo me è molto molto utile e questo sa questo sa di vaniglia e di clementine questo è un profumo secondo me prettamente invernale ma è buonissimo è veramente veramente buonissimo e questa è una limited edition quindi non so se poi ci sarà ancora oppure no non ho capito bene come funzionano le limited edition perché io devo aver preso anche delle limited edition dei mesi scorsi perché ne erano rimasti pochi pezzi quindi li svendevano praticamente poi poi abbiamo le creme depilatorie voi dovete sapere che noi di creme depilatorie non tanto io perché di peli sulle gambe non ne ho praticamente ma la lucia ne fa veramente veramente molto molto uso e ho sempre utilizzato le ho sempre comprato francamente quella della della prep perché le altre costano un botto e lei ne fa fuori un bordello capito io tutti questi pezzi che ho preso vanno dallo 0,99 al 3 e 99 al massimo tranne forse un prodotto che arriva al di sotto dei 5 e 1 ma 1 o 2 il resto è tutto così quindi se sono buoni benvengano insomma allora io per il gel di rasatura ho preso questo che ne ho sentito parlare benissimo e anche qui cioè perdonatemi io non mi ricordo in questo momento i nomi delle ragazze che hanno fatto queste recensioni super positive ma poi vado a recuperare i contatti e ve li metto sotto questi ne ho presi addirittura due perché erano mega scontati probabilmente essendo una limited edition dell'inverno li hanno le hanno scontate non lo presumo che il profumo sia simile a quello del sapone da barba hanno detto tutti che è buonissimo che è spettacolare e quindi questi li ho comprati tre me li ho già portati via la lucia e non li ho visti e ne ho prese due di queste ne ho prese due perché sicuramente queste sono una maria poi anche questa ah no ho sbagliato questa è la mousse doccia quindi di rasatura solo quelle due lì poi ho preso due mousse doccia che anche qui ho sentito parlare molto bene volevo provarle francamente non lo so come sono però adesso magari che arriva un po più il caldo così potrebbe essere carino quindi balea mousse doccia con estratto di rose per tutti i tipi di pelle dalla fragranza fruttata e vediamo un po come è la profumazione non si sente non pervenuta ma nel senso che non l'ho aperto non lo voglio aprire adesso poi se qualcuno li ha provati e vuole dire il suo parere io sono ben contenta di ascoltarvi eccolo qua l'altro era questo che è un dav mousse doccia ne ho sentito parlare molto bene dalla simon e devo dire che è vero che c'è anche al tigotà ma io non l'ho mai trovo almeno nel mio tigotà per il momento non l'ho visto questo aveva un prezzo abbordabile era 3 49 3 qualcosa quindi detto vabbè lo proviamo poi vabbè al cocco c'è il cocco è uno dei miei profumi estivi preferiti quindi secondo me secondo me sarà buonissimo e nulla vi farò sapere poi deodoranti dei deodoranti ho sentito pareri negativi e pareri positivi alcuni dicono che non coprono ma questo penso sia proprio in base alla propria sudorazione e al proprio ph fisico alcuni dicono che non coprono altri dicono che invece sono perfetti altri dicono che li usano come di odoranti per gli ambienti quindi comunque in un caso o nell'altro non vanno sprecati questo profumo spettacolare io questo l'ho spruzzato questo sa di anguria cioè l'anguria è ovviamente il profumo dell'estate quando siete in mezzo a un prato verde con magari un verso capitano magari di andare in campagna oppure anche se non vi capita immaginatevelo in un verso estivo con una bella anguria tagliata a fette e che si mangia in compagnia questo è il profumo di quel momento lì io adoro tantissimo collegare i profumi di tutto quello che uso a dei momenti che ho vissuto o che mi immagino o a delle immagini che mi hanno regalato magari dei romanzi dei libri me li custodisco e mi piace immaginare e ricordare collegare il profumo ad un'immagine o a una sensazione che ho vissuto in particolare ecco questo è il profumo di un momento d'estate gioioso con una brezza di vento estiva fantastico questo è fantastico spero anche che funzioni altrimenti me lo sparapazzo in tutta la casa quest'estate e al profumo di anguria questo è anche questo un deodorante spray al profumo di campanula e di ortensia quindi questo più no questo però non l'ho spruzzato più floreale qui dice copertura 24 ore vi farò sapere se è vero se io soprattutto mi sono trovata bene perché i deodoranti veramente dipendono molto da come la nostra sudorazione da come il nostro ph della pelle da come reagisce la pelle quindi secondo me magari a qualcuno non fa nulla qualcuno invece protegge per tutto il giorno questo ve lo ve lo farò sapere poi curiosissima perché allora io sto usando per i miei capelli che ho i colpi di sole sto usando una linea professionale che mi ha consigliato la mia parrucchiera e che è della testa nera e che trovo su amazon però vi devo dire che mi trovo benissimo e sono buoni compro i flaconi da un litro e dopo la fine ogni tanto mi rompo le balle perché vorrei cambiare prodotto ho trovato questo more blonde more blonde shampoo della linea balea professional che è per i capelli titti e adesso aspettate che circo non ce ne ha eccolo qua shampoo shampoo per capelli biondi effetto splendente ideale per capelli biondi naturali e decolorati ovviamente miei formula a base di cheratina e olio di semi di girasoli senza silicone e quindi vi dirò vi dirò perché sono curiosa stasera devo fare la doccia e quindi lo proverò sicuramente ho preso sia lo shampoo che il balsamo mi pare perché su alcune cose ok sia lo shampoo che il balsamo balsamo nutriente con olio di mandorla al profumo di vaniglia per capelli danneggiati senza siliconi dermatologicamente testato e no vi sto dicendo una stupidata ho preso il barattolo sbagliato questo è un altro vabbè non torno indietro eccolo qua è giusto madonna poi è tutto al contrario no questi sono due uguali ma io avevo comprato mamma Elena che ritardata che sei vabbè fa niente eccolo qua questo è il balsamo della stessa linea e vorrei provarlo allora balea professional balsamo per capelli biondi per capelli biondi naturali e tinti formula arricchita con cheratina e olio di girasole mette in risalto i riflessi rende il capello più morbido e facile da di stricare senza siliconi ve lo dirò quando lo proverò siamo andati in tema di balsami siccome la Elena è veramente una cretinetta magari se ne comprate anche due dello stesso tipo no invece uno è uno shampoo e uno è un balsamo allora questo 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 shampoo nutriente con olio di mandorle shampoo nutriente con olio di mandorle profumo di vaniglia per capelli danneggiati senza siliconi e già questa è una cosa buona quindi questo è lo shampoo e questo è il balsamo relativo a quello shampoo lì e anche di questo vi saprò dire allora voi vedete qua un botto di prodotti ovviamente però noi in famiglia siamo in cinque nel senso che quattro siamo in questa casa e pietro che per l'università sua edolo ovviamente quando scende che se li sceglie se li porta via quindi comunque sono prodotti di largo consumo che smaltiamo in molto velocemente se pensate per esempio che la lucia se non tutti i giorni un giorno si un giorno fa la doccia e poi si spalma la crema poi si mette il deodorante e poi si depila perché lei e tutti i giorni si depila comunque sono cose che si consumano molto molto velocemente anche se ho preso veramente tantissima roba perché ho voluto provare un po di tutto essendo il primo dm vicino quello di curno va bene non è che tutte le settimane ci vado anche perché sono mio marito mi ammazzerebbe francamente ha ragion veduta ok poi 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 cosa abbiamo qua vediamo se c'è ancora qualche shampoo questi crema doccia che non va bene vi faccio vedere un po così allora ho preso un crema doccia doccia idratante al profumo di latticello e limone che è questo questo lo abbiamo aperto in macchina per sentire il profumo e il profumo è della torta della nonna al limone e pinoli anche se qua i pinoli non ci sono ragazzi cioè è una cosa spettacolare spettacolare io l'ho aperto dice pao 12 mesi ma lo consumiamo subito questo è veramente madonna che buono ma quanto è buono poi ne ho presi due che non ho qui il limite d'edition sempre consigliati da tanti di voi ai cookies che era penso nel periodo natalizio ecco quelli se li hai presi la lucia e in doccia stamattina c'era un profumo da biscotto biscotto da forno beh questo poi ho preso un mamma mia non vedo niente ragazzi allora un doccia crema idratante al profumo di latte miele e presumo che anche questo sia ottimo il miele è un profumo che mi piace il latte anque anque e nulla poi vi vi saprò dire non so più dove mettere i prodotti poi ho preso tanto per dirvi che si sceglie il prodotto dal pack ma guardate che bello no ma è bello tanto eh cioè ma sono bravissimi secondo me questi grafici tanto di cappello mi piacerebbe fare un lavoro così e questo è vegano magari era anche sugli altri ma non li ho visti no ah sì sì alcuni prodotti sono anche vegani quindi se a qualcuno interessa ce ne sono molti vegani questo è una traduzione in italiano ce l'ho sì gel doccia idratante al profumo di fiori e frutti tropicali anche questo non lo apro perché vabbè ha un pao di 12 mesi che sicuramente poi riusciamo a rispettare però vabbè meglio prodotti meno prodotti apro meglio è insomma anche questo è vegano mi piace tantissimo il disegno e sono veramente spaziale poi l'ultimo questo l'ho visto in tantissimi 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 video penso sia stata la limited edition del periodo prima di natale o di natale ma scusate cioè adesso francamente voi non li terresti da collezioni ci manca solo che lo tengo da collezione è meraviglioso anche questo è vegano è un gel doccia a ph neutro per peli delicate al profumo di non so che cosa io ho provato la crema mani che sono spettacolari ma ve lo farò vedere nel secondo video ha un profumo morbido avvolgente coccoloso di crema mani quasi che assomiglia alla neve ha molto molto morbido buonissimo non so se il anche il bagno schiuma sia di questa profumazione presumo di sì poi queste se non ho capito male la commessa mi ha detto che erano arrivate appena appena quindi la lucia mi ha già fregato le altre referenze pazienza vi faccio vedere quello che mi è rimasto allora questo è lo shampoo anche questo qua c'è un sacco di roba allora mi piacerebbe parlare il tedesco io penso 98 per cento di ingredienti naturali fa vedere le foglioline vegano e il 90 per cento del 97 per cento dei materiali utilizzati è ricicrabile potrebbe essere non capisco niente però fa niente allora valea shampoo riparatore con olio di avocado bio e burro di mango per capelli danneggiati e stressati senza siliconi e solfati privo di sless quindi secondo me questo è un ottimo inci trattamento intensivo per capelli danneggiati e tendenti alla rottura dona morbidezza idratazione e lucentezza questo mi sembra ottimo lucia secondo me mi ha fregato il balsamo perché io avevo comprato sicuramente anche il balsamo va bene poi 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 questo l'avevo già messo lì sì questo l'ho già visto ok poi abbiamo sempre delle nuove tipologie che sono uscite ah no no questa è la body lotion sono un'altra roba va bene sempre della stessa categoria e anche questi nuovi guardati che meraviglia questo è shampoo idratante con estratto di visco bio e latte di cocco per capelli fragili e secchi senza siliconi e solfati privo di sless per una detersione delicata una lucentezza ai capelli allora io ho i capelli mediamente grassi ma non forti nel senso che io ho sempre fatto i colpi di sole o la tinta e quindi vabbè vabbè ragazzi io li provo nel senso che poi siamo in 4 in casa in 5 ognuno ha la sua tipologia se non va bene a me a qualcun altro andrà sicuramente bene ma anche questo è un pack un pack madonna un pack un pack stupendo veramente stupendo e della stessa linea c'è il balea gel doccia ah ho sbagliato non ho preso il balsamo ma che rincoglioni scusatene che rinco questo è il balea gel doccia con olio di cocco bio di estratto di peoni oh mamma questo deve essere un profumo questo lo apro ragazze tanto poi questo lo consumo oh mamma cocco una palma la sabbia il mare il rumore delle onde sono sdraiata al mare ok ritorniamo a noi bellissimo bellissimo e buonissimo poi andiamo a random e vediamo cosa c'è qua anche questo è un gel doccia nutriente con olio di mandorle bio ed estratto di fiori di ciliegio questo non lo apro però mi sa che anche questo il profumo è veramente spettacolare poi qui intanto qua sotto si sta riempiendo tutto di prodotti a un certo punto non mi vedrete più cosa ho preso questo è del viso ve lo faccio vedere la prossima volta insieme alle altre cose poi 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 oh gel doccia rivitalizzante con olio di canapa bio ed estratto di papaya secondo me anche questo è spettacolare come profumo questi erano tutti nuovi erano all'inizio tanto che io per sbaglio ho preso un tester perché non so se anche negli altri centri comunque li a curno c'erano i prodotti i tester davanti in modo che tu potessi sentire il profumo del detergente e questa è una cosa molto carina perché poi magari c'è anche qualche maleducato che si svita il prodotto e si sente il profumo che non è proprio il caso insomma invece c'erano proprio davanti i tre tester io come una cretinetti ho preso il tester e me lo sono portato dalla cassa fantastico siccome ero inebriata da questa visione di prodotti che non ho neanche capito cosa stessi prendendo nello scaffale insomma poi abbiamo questo che è una limited edition ma secondo me anche questa è dell'anno scorso perché io l'ho già vista in qualche video dei mesi passati balea gel doccia con estratto di anguria al profumo di frutto di drago e mango il frutto del drago non so che cosa sia mandragola no drago vabbè qualche l'è questo l'ho sentito ma proviamolo dai intanto oh mamma che spettacolo no vabbè cioè veramente profumo inebriante di poco anguria tanto tanto mango molto mango che io in estate adoro buonissimo va bene continuiamo e ho preso vediamo cosa c'è qua una doccia crema ultra sensitive per pelli sensibili priva di oli essenziali e estrati di erbe particolarmente indicata per pelli tendenti alla dermatite atopiche e alle neurodermatite allora lucia ha una pelle veramente molto molto delicata questa io l'ho presa per lei lei non se l'è presa perché probabilmente non se l'è accorta ma e siccome fa le docce veramente spessissimo secondo me questa è indicata per la sua pelle questo è della linea e penso l'unico prodotto o un altro che ho preso della linea al verde perché non è che mi ispirassero tantissimo non so come mai ma anche dalle recensioni non ho sentito cioè ho sentito parlare benissimo della linea di balea ma non così tanto bene della linea di al verde quindi sono andata un po' con i piedi di piombo proviamo e insomma poi vediamo com'è questo è un altro doccia schiuma poi ho preso di la vera questo doccia schiuma aspettate che vado a vedere fragranza rivitalizzante per affrontare con energia alla giornata è un gel doccia e la sua fragranza agrumata dona buon umore per ricaricare l'energia durante la doccia io questo l'ho già aperto ieri perché Lucia voleva scegliere ne ha scelto un altro albergamotto se non ricordo male e questo è proprio lime e citronella citronella non si sente tanto si sente molto il lime veramente molto fresco molto molto buono dal profumo poi abbiamo preso una body lotions balea lozione corpo con estratto di zenzero bio e olio di moringa per pelli normali e secche la formula contiene fino al 97% di ingrediente di origine naturale acqua compresa dermatologicamente testato e vegano insomma anche questo secondo me non è male e poi lo proveremo poi ho preso un peeling un vediamo qua ok un altro ah no qua c'è un altro di al verde un altro doccia crema oleoso ecco questo volevo provare con malva selvatica sostanze detergenti delicate di origine vegetale con olio di semi di girasole bio ed estratto di malva selvatica anche questo è vegan e vediamo anche questo come sarà poi mi ero dimenticata un altro gel da rasatura questo probabilmente questo l'ho pensato io o è un nuovo arrivo o è un un saldo dei delle vecchie dei vecchi schiume da rasatura perché è dell'estate siamo a marzo non so se sono già usciti con i prodotti da rasatura però siccome poi di questi ne consumiamo tanti allora questo io l'ho sentito ieri allora ragazzi sa di mamma mia sa di di cocco e di di sole il profumo è buonissimo poi abbiamo un peeling docce sfogliante al profumo di anguria con particelle naturali e anche questo qua il profumo dell'anguria si sente in maniera davvero davvero intensa ma non fastidiosa almeno per me che amo molto i profumi un peeling in maschera 3 in 1 per pelle impure formula con acido salicilico argilla rosa e zinco questo andava nei prodotti del viso ma è capitato qua e quindi ve lo faccio vedere qua poi eccolo qua questa è un doccia peeling doccia esfoliante al profumo di fiori di vaniglia e di mandorlo e questo sono curiosa di provarlo perché è un doccia schiuma con l'esfoliante vediamo se se funziona come sarà insomma il profumo è uguale all'altra se non ricordo male no questa è anche diversa no limited edition quindi probabilmente nuova ok poi abbiamo una crema peeling viso con olio di noccioli di albicocca e anche questa la voglio provare anche questa rientrava nelle prodotti viso ma fa niente visto che poi ce ne sono una catervata quindi la facciamo vedere qua poi abbiamo questa la prima volta ho preso questa che francamente non ho visto recensito da nessuna parte ma mi ispirava mi ispirava perché perché da quando io sono in menopausa soffro di sudorazione molto forte alcune volte nei piedi e questo era un unguento alla calendula non vi dico linci perché mi sembra abbastanza pessimo per linci però vabbè io lo provo vediamo un po' come non l'ho visto recensito da nessuna parte non so se è un prodotto nuovo essendo io neofita della frequentazione del DM fatemi sapere se l'avete provato come l'avete se vi è piaciuto se non vi è piaciuto lo proverò soprattutto anche sotto i gomiti stanno sempre al computer anche al lavoro così questa parte qua è quella che ha sempre un po' di di pelle più spessita e quindi magari potrebbe andare bene anche per quello questo poi ho preso questo fa ancora della parte fa parte della linea corpo corpo questo l'ho provato ieri questo l'ho provato ieri è buonissimo ha il profumo di lime e aspettate che ve lo dico zenziole lime è molto idratante sulla pelle me lo sono spruzzata un po' sulle braccia non dico che fa l'effetto di una crema ma di sicuro non è solo l'effetto di un'acqua profumata è un pochino idratante quindi probabilmente sarà perfetto per l'estate soprattutto nella mia condizione di donna becchietta in menopausa con le scalmane e tutto quanto li viene dietro quindi spruzzatina favolosa si profuma e via che va bene così poi cosa ho preso ancora per il corpo ultimi due prodotti un olio peeling e vi dirò com'è non lo so aspettate che vado a leggere la descrizione in inglese dice olio peeling con olio di mandorla bio e sali del mar morto massaggiare con movimenti circolari sulla pelle umida quindi questo è uno scrub molto molto semplice anche qui la confezione direi che è fantastica e vi dirò e poi ho comprato come crema corpo da provare questa anche questa non ho mai sentito nessuna recensione o io non l'ho trovata mi sembrava una crema molto tranquilla io non è che ho grossissime cioè ho una pelle normale secca sul corpo crema delicata per il viso per il corpo trattamento idratante intensivo con vitamina E e complessi di oli quindi vabbè niente di particolare vegana vi saprò dire va bene dalla stazione di lecco qui è tutto io vabbè vi saluto vi ringrazio perché nell'ultimo video mi avete detto che ero radiosa luminosa che si vede che la mia skin care funziona io vi ringrazio tantissimo di questi complimenti e vi dico che avete ragione non perché sia una persona che così si auto incensa da sola ma effettivamente anch'io ho capito che comunque tutta la cura che ho iniziato con la skin care e la cura della pelle del corpo sta avendo i suoi effetti ma a livello proprio di elasticità di pelle di diminuzione delle rughe o comunque di una pelle molto più levigata più liscia più corposa mi sono accorta che effettivamente se io mi prendo cura della mia pelle i risultati si vedono quindi vi invito perché tanti di voi mi hanno detto che bello non ci avevo mai pensato provo anch'io tante mi hanno scritto dicendomi che hanno iniziato a fare una skin care chi più complessa chi meno complessa che comunque hanno cominciato a prendersi cura un po' della propria pelle io ne sono contenta e ne sono felice vi invito a iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti e se vi interessa seguire quello che è la scia del momento che sono i cosmetici la skin care i prodotti provati ritornerò sicuramente alla maglia all'uncinetto non è una cosa che ho abbandonato qui lo dico e qui lo ripeto ma in questo momento purtroppo per un problema fisico al braccio non riesco a lavorare a maglia e non riesco a lavorare all'uncinetto siccome non mi piace non avere nulla da fare oltre a quelle che sono le mie incombienze da mamma casalinga lavoratrice mi appassiona per il momento questo ramo e così per puro divertimento per puro divertimento ho intrapreso anche questa questo modo di fare i video so che a tante persone non interessano e giusto così so che a tante persone magari interessano magari arriveranno cioè mi piace il fatto che il mio canale si chiami disordine creativo proprio perché è un disordine mentale nel senso che cioè disordine mentale è brutto da dire è un disordine creativo cioè una volta si parla di libri una volta si parla di cosmetici naturali una volta si parla di cosmetici commerciali una volta si parla di lana di uncinetto di maglia insomma è così chi mi conosce da sempre sa che io non sono fedele agli hobby nel senso che ho davvero bisogno di cambiare sempre le cose da fare altrimenti il mio interesse poi svanisce solo sugli hobby per il resto invece no quindi io vi ringrazio se siete arrivati fino a qua vi invito a iscrivervi al canale a mettere un mi piace al video se vi è piaciuto e vi aspetto per la seconda puntata dove parleremo dei prodotti viso maschere un botto ne ho prese noi ne usiamo tante io e Lucia ne usiamo proprio tante qualche siero non tantissimi crema mani crema piedi e un tonico cioè poche cose tante tante maschere quindi se vi interessa vi aspetto la prossima settimana con la seconda puntata di questo video io vi abbraccio mi ringrazio vi auguro una buona settimana e spero di leggere i vostri pareri se avete provato qualche prodotto e di così sapere se anche per voi questo DM è una novità come lo è stato anche per me grazie e ciao a tutti a tutti